L'area di alta pressione che ha dominato il Mediterraneo occidentale nel fine settimana si allontana dall'Italia dando spazio a perturbazioni che porteranno piogge, neve e vento soprattutto il 17 gennaio. Il promontorio subtropicale si sposterà consentendo l'arrivo di impulsi instabili. Lunedì 15 gennaio inizia con una perturbazione atlantica che colpirà le regioni centro-meridionali portando piogge e forti venti soprattutto nelle zone tirreniche. Mercoledì 17 una seconda perturbazione potrebbe intensificare il maltempo con precipitazioni temporalesche al centro nord ed estese al sud. I venti si rinforzeranno inizialmente da sud e poi da ovest soprattutto sui mari di Ponente. Giovedì 18 la perturbazione si dirigerà verso est lasciando instabilità residua sul centro fino alla Campania. Il clima rimarrà mite al sud e in Sicilia mentre venerdì 19 l'ingresso di aria gelida potrebbe portare freddo e maltempo sui settori adriatici con possibilità di neve fino a quote basse.